poi concludendo sempre parlando ieri di elettro rock con i transam approfitto pure per citare qui abbastanza brevemente però ma meriterebbero un discorso più lungo un trio inglese uscito fuori alla fine degli anni 90 a dm2x che usavano principalmente sintetizzatori analogici loro pure furono infilati in quel filone che appunto si chiamava elettro rock ma loro erano bene oltre l'elettro rock era un qualcosa di un ensemble elettronico anni 60 rivisto in chiave post rock o post noise il primo disco si chiamava vero elettronix che è un interessante gioco ai sint analogici di quel periodo che è diciamo interessante dal punto di vista storico così perché è stato un disco di un forse di un revival più un disco di un revival elettronico ma musicalmente è decisamente inferiore a ciò che verrà dopo specialmente on the wires of nerves del 99 uscito per la satellite mute records nel 99 io l'ho postato sia su instagram che sulla bacheca youtube c'ha una copertina abbastanza bizzarra e particolare c'è la ragazza che sta sdragliata su un tavolo operatorio i due ragazzi che la operano e questo sint antelitteram che gli esce dalla pancia evidentemente che sta ingoiato e loro la devono operare e togliere questo sint insomma uno splatter gore abbastanza comico è però il disco è tutt'altro che comico dentro appunto ci sono fatevi conto tutti quegli ansambli elettronici che io ho citato qualche due settimane fa negli ansambli elettronici c'è mother mallards anche un po silver apples ma anche bieber and krauss ma anche i tonto e soprattutto morton subottnik quindi anche elettronica di un certo insomma di conservatorio o milton babbitt cioè quella proprio più brutale ma di conservatorio ci stanno quelle cose lì immischiate chiaramente con il noise rock e il post rock quindi qui l'elettro rock c'entra proprio fino a un certo punto certo ci stanno dei pezzi che sono leggermente più dense certi pezzi leggermente in più ammiccano all'hard rock però ci sono delle distorsioni armoniche di synth analogici da fare in pallidire veramente Gordon Mumma o Morton Subottnik il disco mi ricordo che in Vinita era doppio io ho il cd e quello è uno dei capolavori degli anni 90 tutti perché del 99 ho visto che Piero Scaluffi è da 8 e fa benissimo quello è un disco che non si può non avere fu poi tra l'altro ben recensito anche su Blue Up me lo ricordo quello è un disco che insomma se ne parlò parecchio non è un disco per palati facili però insomma non è un disco per tutti bisogna avere anche insomma un certo approccio un certo amore anche alla musica elettronica una musica elettronica molto molto iconoclasta quindi molt iconoclasta che vada oltre ogni schema e che il rock ci sta che poi è bello che è più presente il synth che il rock cioè mentre nei Transam era più presente il rock che il synth no qua al contrario è più presente molti synth che il rock e siamo pure molto bravi a suonare i synth si vedete che insomma i mezzi li conoscevano bene e non erano effettivamente dei pivelli poi dopo Firmano questo è il capolavoro assoluto ed è un disco mi raccomando ve lo dico molto urticante e rumoroso eh anche se c'ha dei pezzi più volendo ballabili dance alla Giorgio Moroder però è in disco insomma quei controfiocchi amo molto e ce l'ho c'ho anche quello dopo che si chiama Avant Hard uscito proprio per la Mute ecco lì aggiustano un po' il tiro nel senso aggiustano livellano un po' i toni e si fa più accessibile poi ne fecero uno di transizione qualcuno un po' meglio però ecco quando avete questo disco qua del 99 e Avant Hard degli ADN2X avete dei classici a cavallo del 99 e 2000 e questo credo che faccia molto contento il mio amico Lost che ama molto quel periodo lì proprio storico musicale proprio e qui ci stiamo proprio anche con gli anni 1999-2000 quindi caro Lost questi li trovi su Spotify sicuramente li conoscerai Spitz da Limuse sta al mare in montagna dove stai e ti terranno sicuramente compagnia loro poi dico proseguirono con altri dischi più o meno alcuni più morbidi altri più su un ritorno leggermente ai vecchi fasti rumorosi io ce li ho un po' tutti fino a un disco gialletto con una X che adesso mi sfogge il nome sarà stato tipo del 2002-2003 e poi di lì mi sono fermato più non ne ho ecco questo è per quanto concerne il discorso elettro rock sperimentale noise degli ADN2X dall'Inghilterra trio inglese dall'Inghilterra ora vediamo se oggi in pomeriggio mi viene qualche altra ispirazione per parlare di qualche altra cosa per adesso proseguo la mia giornata e vi saluto e la mia passeggiata e vi saluto